Mi chiamo Gianmarco, mi chiamo dalla provincia di Milano. Allora, vuoi farle una domanda? Prima le faccio subito la domanda. Lei crede veramente che il Movimento 5 Stelle non sia capace di costruire, di fare, soltanto di distruggere? Purtroppo sì. Va bene, questa è la sua opinione. La invito a fare un programma, il Movimento 5 Stelle, per esempio Parma, stanno dimostrando di non essere solo distruttivi, ma di essere anche propositivi. Innanzitutto la totale inesperienza del ceto politico, la mancata selezione su altre basi. Non si può, sulla base di una selezione che somigliava a quella di X Factor, riuscire a portare una classe dirigente nel nostro paese. Non si può pensare che ragazzi che fino a ieri erano agli studi, poi abbiamo visto che alcuni non avevano nemmeno i titoli di studi annunciati, e poi abbiamo visto che alcuni non avevano i titoli di studi annunciati,